Sono passati 25 anni da quando moriva il padre passionista Enrico Zoffoli. Io ero un suo studente nei corsi che lui teneva per i laici presso la Scala Santa, vicino San Giovanni Laterano, qui a Roma, e lo visitei anche varie volte nella clinica dove visse la sua ultima malattia e dove poi morirà. Padre Zoffoli era un insigne teologo e filosofo, membro della Pontificia Accademia di Sant'Omaso d'Aquino. Purtroppo oggi viene ricordato soltanto per la sua polemica e per i suoi libri contro i neocadocumenali o contro le deviazioni dei neocadocumenali, ma in realtà fu autore di decine di volumi di teologia, filosofia, apologetica, geografia e via dicendo. Purtroppo quasi tutta questa produzione è oggi ormai fuori catalogo e quindi molto difficilmente reperibile. Io lo ricordo bene padre Zoffoli anche a distanza di tanti anni. Lo conobbi che lui era già anziano, ma aveva veramente conservato il candore di un fanciullo. Si percepiva la sua bontà ancora prima della sua fermezza. Non erano tutte rose e fiori per lui nella sua comunità passionista, ma si percepiva la sua intransigenza nel rimanere saldo su certi principi importanti. Con noi più giovani era sempre molto disponibile. Mi regalava molti dei suoi libri che io ancora ovviamente conservo. Ricordo per un libro che stava facendo sulla messa mi chiese qualche testo sulla musica sacra, testo che poi ho visto ha utilizzato per la stesura appunto di quel libro. Oggi è dimenticato da molti, ma è un vero peccato, in quanto egli combatté alcune battaglie che sono ancora molto lontane dall'essere vinte. La comunione sulla mano, la concelebrazione, il rispetto per l'ocarestia e molto altro. Egli dedicò molti libri a temi di attualità ecclesiale, ma anche sociale. Penso ai suoi studi su aborto e pena di morte, ad esempio. Ricordo uno dei miei ultimi incontri con il grande Monsignor Antonio Livi, che era amico di padre Zoffoli, e in cui lui mi confidò che si era dato da fare per introdurre la causa di beatificazione del padre passionista presso il vicariato di Roma. Io non so in realtà quanto era andato avanti quel tentativo, ma non fu sorprendente che non ebbe successo. Padre Zoffoli, per via delle sue posizioni, non fu molto popolare presso alcuni settori della Chiesa. A volte, c'è da dirlo, attirò anche persone che non aiutarono certo la sua buona causa. Eppure, se lo aveste conosciuto, ricordereste come me la sua intensa cordialità e la sua indomita passione per la verità. Una passione che non ha mai abbandonato anche nella sua tarda età. Fu io a suonare per il suo funerale alla Scala Santa e ricordo che, per suo desiderio, alla fine eseguimmo la canzoncina mariana di Sant'Alfonso Maria dei Liguori O bella mia speranza. Un omaggio alla Madonna semplice ma molto intenso. Forse, padre Zoffoli con questo desiderio voleva dirci che, malgrado tutte le sue altissime speculazioni teologiche e filosofiche, riconosceva l'importanza fondamentale della fede dei semplici. Penso che a padre Zoffoli non sarebbe piaciuto essere definito un intellettuale, come se i suoi studi avessero in loro qualcosa di astratto. Ricordo, infatti, una gita che facemmo con il gruppo in cui gli chiesi durante una passeggiata se era veramente sicuro dell'esistenza di Dio e lui mi disse che era più sicuro di quello che del fatto che io fossi davanti a lui in quel momento.